Musica Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo salvati un paio, così almeno li riusciamo ad aprire Cioè è una cosa incredibile, sono fuggiti, andati via, proprio una cosa esaurita totalmente Spettacolo, ne abbiamo due da aprire per il video, apriamoli subito Ragazzi noi ci ridiamo e ci scherziamo, ma qui il problema è veramente serio Questo prodotto è andato letteralmente a ruba Cioè era veramente parecchio che non vedevo un prodotto Pokémon sparire veramente così in tempo zero Tutti lo vogliono, tutti lo cercano Siamo usciti a mantenere da parte due confezioni, giusto per farci un video E noi giustamente andiamo adesso a spacchettarcele per il gusto del nostro video Partiamo con la confezione speciale dedicata a Mew Ovviamente troviamo il nostro fantastico Mew, bellissimo Non ci sono storie La spilla di Mew Spettacolare anche questa E ovviamente ragazzi si che gli diamo oggi codice E vai Codice della confezione speciale Ed ora andiamo a sbustarci queste buste Partiamo da qui Cleyferi, Magikarp, Ikans, Walter, Geodude Abbiamo un Wimpod Labras Speravo già in una bella botticina alla prima busta Però beh, abbiamo ancora altre cinque buste da aprire Ci sono tre buste a confezione Confido nel poter urlare di gioia insieme a voi ragazzi E già vedo qualcosa alla seconda busta E alla seconda busta abbiamo un fantastico Goods Lord GX Della sua versione Hyper Non è come sbustare un Charizard GX Però devo dire che mi sento contento Anche per Ivi, ci piace anche Ivi Ivi è uno di quei must E ovviamente ragazzi Codice per voi Vediamo un po' Anche qui Vediamo questo upside Pikachu E Ospita di Erika Nella versione Or ever solo Ci piace tantissimo Nel complesso non mi posso lamentare Di questa prima confezione speciale Ecco a voi ragazzi Il quarto codice Di questa busta Ovvero Delle tre bustine E Quello legato alla confezione speciale Ora mettiamo un attimino da parte il tutto Perché ragazzi Prima abbiamo aperto la confezione Di Mew Ma Vi devo ricordare Chi è il mio Pokémon preferito ragazzi E' tempo di aprire la confezione Di Mewtwo Spettacolo allora ragazzi Partiamo direttamente dalla nostra spilletta Che Sarà fissa sul mio petto Adesso Abbiamo il nostro Mewtwo In tutto il suo splendore Carta codice Codice Per questa confezione speciale E ovviamente ragazzi Non che si andano a meno le tre buste Oh Abbiamo una busta con su Il Charizard Ragazzi Vediamo se ci porta bene Tutti alla folle ricerca Del Charizard GX Hyper E Troviamo Una Eevee Con curiosità E un bel Vaporeon Eevee e Vaporeon Dai Sono fatti i giretti insieme Trappola E tenacia Anche determinazione Che tornano sempre Belli comodi ragazzi E Codice per voi Lasciamo per ultima La bustina con su Mewtwo Un po' di E qui abbiamo dell'altro Sbrillume ragazzi Tan 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 Lucario GX Certo Non è Charizard GX Però E abbiamo anche un bello Zapdos Beh nel complesso Devo dire Oh Abbiamo anche L'opotenente Determinazione di misti E Codice per voi Devo dire che queste buste Comunque in generale Mi stanno piacendo C'è sempre da Sbustare bene Ultima busta ragazzi Ho un po' di emozione Attenzione anche perché C'è qualcosa Se hai già visto che c'è qualcosa C'è un Cermander Come prima carta Che potrebbe essere Che ci porta del bene Non ci sto credendo Non ci sto credendo Spettacolo Spettacolo Charizard GX Sono una persona più felice Sulla faccia della terra In questo momento Ragazzi Non ho parole Veramente Non ho parole Questa si che è stata Veramente una bella botta Ovviamente Non voglio dimenticarvi Di voi Quindi Un pensierino Anche per voi Ecco qua ragazzi Il codice Di questa busta Ma vuoi mettere Il codice Con questo Charizard GX C'è ragazzi Spettacolo Allucinante Non poteva andare Meglio di così Questo Unboxing Tra l'altro Unboxing di salvataggio Ragazzi Spettacolo Sono veramente felicissimo Grazie a tutti E ci vediamo Al prossimo video